Massimiliano Dindalini torna alla presidenza di TM, un ritorno appunto. Sì, è un'esperienza che ho maturato in questi anni, il rapporto con la società del trasporto pubblico su gomma più grande della Toscana Meridionale, quindi una realtà importante a cui dedicherò tutta la massima impegno e attenzione nei prossimi mesi per cercare di far sì che il servizio sia sempre di più rispondente alle esigenze dei cittadini, quindi moderno, confortevole e soprattutto puntuale e magari in grado di dare le risposte alle esigenze del territorio. Tra l'altro sul trasporto regionale, insomma, da mesi ormai si attende di capire poi quello che succede? Sì, c'è la procedura di gara regionale che è ancora aperta, non sappiamo ancora come si concluderà perché siamo in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, nel frattempo però l'azienda deve continuare a svolgere il suo servizio nel miglior modo possibile in rapporto con la regione e con le istituzioni del territorio e lo faremo mettendo a disposizione tutte le energie, le esperienze e la qualità che TM ha messo in campo in questi anni. Prima anche la carica di segretario del PD e poi c'è il congresso. Sì, ci sono i congressi ad ottobre, quindi è una fase molto breve quella che mi separerà dai congressi, poi sarà il partito a decidere qual è il percorso che vorrà intraprendere. Io mi auguro che ci sia maturità e senso di responsabilità in tutte le componenti del partito per trovare una soluzione unitaria per guidare i prossimi processi che ci saranno, quindi le elezioni politiche ed altri importanti appuntamenti. In questo io metterò tutto il mio impegno per trovare una soluzione adeguata ai tempi che corro.